Allora, caro dottor Vallario, nell'attesa della programmazione del sindaco e dei nuovi consiglieri, cosa ne pensi? Come sono andate queste elezioni? Benissimo. Il mio leader, Gerardo Capazzo, ha sfasciato tutto. E non va a ruffiare, per l'amore? Ah, vabbè, io ci ho appoggiato a lui, perché forse a lui ci ha appoggiato un po'. Che poi c'è dietro, dietro qua, c'è uno sponsor di alta classe, che poi andremo sul duo, capito? Allora, ora dobbiamo lottare per farlo diventare il vice sindaco? E per cinque anni, però penso che lui ci ha le coordinate per diventare sindaco, te lo dico io. Le coordinate? Perché c'è uno sponsor ufficiale che lo appoggerà a tutti i sensi. Quindi, secondo te, può pretendere il vice sindaco ora Capazzo? Cazzo, c'è tutte le coordinate, con me. Se lo metto a fare un regista, non è d'accordo, con me. E vogliamo guardare un po' più avanti? Fra cinque anni. Fra cinque anni. A me c'è le coordinate giuste e portate. Lo sponsor ce l'abbiamo, è unito lo svizzero. Ma è grande. Quasi sono un milione di euro da investire. Essendo un risultato così eclatante, 150 preferenze, poi il secondo, il terzo, a metà. Secondo te, tu come la pensi? Che è successo? Che è potuto succedere in queste elezioni? Che è un bravo ragazzo. Che è un bravo ragazzo amato. Ha fatto anche il teatro, il teatro è interessante. Sai recitare. Pure questa volta ha recitato. Invece l'altro non sa di recitare. Non sa di recitare. Non sa di recitare. Ha meritato questo successo. Grazie a noi che hai fatto anche lo sponsor. La prima vittoria, il primo passo l'abbiamo fatto. Il primo passo l'abbiamo fatto. Se fanno la festa hai qualche consiglio da dare al sindaco, ai nuovi consiglieri. Se la vuoi organizzare in un certo modo, non sempre le stesse cose, la carrupa per esempio. La carrupa, la carrupa, la carrupa, la carrupa. Cavazzo, un abbraccio a tutti. Ciao.